Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Maestra di Senigallia ricoverata per meningite, scattata alla profilassi per adulti e bambini Ubriaco in autostrada Urta, New Jersey e improvvisa manovre pericolose denunciato Un fanese con tasso alcolemico 5 volte superiore al limite 22 incidenti stradali e oltre 300 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza La prefettura illustra i dati 2019 e annuncia un aumento di controlli Emergenza smog a Fanno scatta all'ordinanza per bloccare il traffico nelle zone limitrofe Al centro storico, un provvedimento limitato a due domeniche Largo 5 metri e lungo quasi 200, ecco il nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Cesano Collegherà l'acciclabile di Marotta con quella in progetto a Senigallia Illustrati tutti i dati del Natale più di Fanno, numeri in crescita per i settori del commercio e del turismo Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Come avete potuto sentire dai titoli del nostro telegiornale Una maestra di scuola elementare 50enne alla periferia di Senigallia È stata trasportata la notte scorsa al pronto soccorso locale Poi ricoverata oggi nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Fermo Per meningite meningococcica È scattata per questo la profilassia antibiotica per una novantina di persone Tra adulti e bambini che sono stati a diretto contatto con lei Tra questi gli studenti, i loro familiari e il personale scolastico La gran parte dei contatti stretti è stata identificata sotto posta trattamento Applicando le direttive delle linee guida per la gestione delle meningite batteriche E del Ministero della Salute La notizia è stata inoltratta a tutti i medici di medicina generale e i pediatri della zona E la cronaca La polizia stradale di Fano ha denunciato un uomo ubriaco che stava seminando il panico Lungo l'autostrada 14, patente ritirata e autosequestrata Zizzagava con l'auto nella carreggiata sud della 14 nel tratto tra Cattolica e Pesaro E urtava ripetutamente il New Jersey centrale Stava guidando ubriaco il 48enne fanese bloccato dalla polizia stradale Dopo le numerose segnalazioni da parte di altri automobilisti spaventati dalle pericolose manovre del conducente Ieri pomeriggio intorno alle ore 13 i poliziotti dopo un breve inseguimento hanno bloccato il veicolo Un Audi A3 dopo il casello di Fano L'intervento si è rivelato complicato e non privo di rischi per gli operatori della specialità Che prima hanno messo in sicurezza il flusso veicolare e poi il mezzo stesso Sono così riusciti ad evitare un possibile incidente con conseguenze potenzialmente disastrose L'auto dell'uomo infatti era stata notata mentre si spostava in maniera imprevedibile e pericolosa sulle tre corsie di scorrimento Arrivando ad impegnare anche l'area di emergenza Il 48enne una volta sottoposto ai controlli di rito Ha presentato evidenti sintomi di un forte stato di alterazione psicofisica e difficoltà a mantenere l'equilibrio L'esito delle verifiche non hanno lasciato alcun dubbio Segnando un tasso alcolemico di quasi 5 volte superiore al limite consentito dalla legge L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza Un reato punibile con l'arresto da 6 mesi ad un anno e con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro Al conducente è stata ritirata la patente ai fini della successiva sospensione Ed è stato sequestrato il veicolo risultato di sua proprietà E una donna di 44 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada E' successo questa mattina intorno alle ore 9 in Viale Giordano Bruno a Senigallia A bordo della vettura una Fiat Panda C'era un anziano di 82 anni che ne è uscito in leso La donna invece è stata soccorsa dal 118 e poi da un'eliambulanza Atterrata nella vicina area del campus scolastico Che ha trasportato la 44enne in gravi condizioni al torrente di Ancona Sul posto anche la polizia locale per i rilievi di legge Si è concluso invece senza gravi conseguenze L'incidente è avvenuto a Pesaro tra un'auto e uno scooter Intorno alle ore 13 il centauro stava percorrendo via Giolitti Quando si è scontrato con un'auto che secondo una prima ricostruzione della dinamica Pare stesse effettuando un'inversione di marcia Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 E i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area Cambiamo argomento questa mattina in prefettura a Pesaro Sono stati illustrati dati statistici inerenti appunto agli incidenti Avvenuti lo scorso anno nella territorio provinciale 22 sono le persone decedute Ben 300 le patenti ritirate per guida in stato di ebrezza Tutti i dettagli nel servizio di Lino Balestra I recenti fatti di cronaca sul versante della mortalità stradale A causa di incidenti ma anche quelli accaduti nell'anno appena passato Che delineano un quadro ben preciso Fornito dalle forze dell'ordine che operano sulla strada Induce oltre a una serie di considerazioni a livello culturale Anche una decisa e ferma presa di posizione delle istituzioni Di fronte a questo fenomeno che non accenna a diminuire Questa mattina in prefettura la presenza di tutti i soggetti coinvolti Nel presidio e controllo delle nostre strade Sono stati presentate le cifre che compongono questo quadro E che sì rispetto al 2019 mostrano una lieve flessione Ma che non è significativa Il 2019 si è chiuso con 18 incidenti mortali contro i 21 del 2018 I deceduti sono 22 contro i 21 In calo di poco anche i feriti 1.478 contro i 1.522 del 2018 200 le patenti ritirate per infrazioni E 322 quelle sospese per guida in stato Debrezza E questo quindi ha indotto a prendere in considerazione da parte del comitato Tutta una serie di contromisure per le prossime settimane Abbiamo ritenuto di riunire subito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica Per una intensificazione dell'attività di prevenzione e di controllo Sull'osservanza delle norme del codice della strada E poi a seguire una riunione dell'osservatorio Allargata un po' a tutte le componenti del sistema E vi comprese anche le autorità scolastiche Per affrontare il tema su un aspetto Che non è soltanto quello di stretta prevenzione Di stretto contrasto Ma anche su un aspetto più di carattere culturale Occorre probabilmente un cambio culturale Perché la sicurezza stradale Divenga veramente un tema centrale Nell'agenda oggi della società italiana Non esistono strade pericolose Dice inoltre il comandante della polizia stradale di Pesaro Urbino Dire questo sarebbe come scaricarsi di una responsabilità Esistono piuttosto strade più impegnative di altre E del resto guidare un veicolo È di per sé un'operazione complessa E richiede la massima concentrazione Perché purtroppo c'è sempre una componente umana In ogni incidente E questo perché troppe volte al volante Sopravalutiamo le nostre capacità Oltre a tutta una serie di fattori esterni Io vorrei che ci fosse un coinvolgimento maggiore E che più che della prevenzione Introducessimo un nuovo concetto Che è proprio quello della formazione A ridosso della quale poi bisogna innescare Anche una serie di precauzioni proprio Un 77enne di cingoli nella maceratese Quinto del Bianco è morto distanguato In un incidente sul lavoro È successo verso le 12.30 Mentre l'uomo stava lavorando in un campo Con la zappatrice in località Santa Maria del Rango Facendo retromarcia è scivolato sotto il mezzo agricolo Che con le lame prima gli ha racerato una gamba E poi anche l'altra I familiari hanno dato subito l'allarme E sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 I vigili del fuoco e i carabinieri Le sue condizioni erano già gravissime L'uomo purtroppo è morto quasi subito dopo Per una emorragia Adesso torniamo a parlare di inquinamento atmosferico E dei dati diffusi dall'ARPAM Il Movimento 5 Stelle di Fano chiede interventi urgenti Per affronteggiare questa emergenza delle polveri sottili Il servizio di Francesco Salvago L'emergenza delle polveri sottili è un tema Che nuoce gravemente la salute di tutti Ormai non riguarda solo le grandi città Ma colpisce anche Fano È scientificamente dimostrato Che le polveri sottili causino malattie respiratorie e tumori Le principali fonti da cui derivano Sono il riscaldamento domestico Le industrie, il traffico e le attività artigianali Questo tema è stato oggetto di interpellanza Presentata in comune dal Movimento 5 Stelle In quanto la città di Fano nel 2019 Ha superato il limite previsto dalla legge Di 35 sforamenti annuali Provenienti sia dalla centralina di via Monte Grappa Che quella installata nella zona industriale di Bellocchi Quest'anno si apre con la peggiore delle situazioni I livelli sono ancora più allarmanti Se questo fosse possibile Siamo già a 10 sforamenti in 16 giorni dal nuovo anno Per quanto riguarda questa centralina 5 sforamenti invece per quanto riguarda la centralina di Bellocchi Ieri, sono dati appena usciti Ieri abbiamo raggiunto addirittura qui in via Monte Grappa Il livello record di 109 microgrammi per metro cubo Secondo i grillini le tre ordinanze emesse dal sindaco Seri Non adeguatamente comunicate alla popolazione Non sarebbero state accompagnate da controlli da parte di organi competenti I 5 stelle lamentano anche la mancanza tuttora di esiti dello studio ambientale Sulla zona industriale di Bellocchi Frutto di una convenzione sottoscritta dal comune con l'Università di Urbino Il cui termine era stato fissato originariamente a giugno 2019 Ma prorogato a febbraio 2020 Sottolineando la mancanza delle due giunte guidate da Seri Che da 5 anni e mezzo non affrontano seriamente il problema dell'inquinamento atmosferico Dopo la presentazione della nostra ordinanza qualcosa sta cominciando a muovere Per interventi d'urgenza Valuteremo se saranno sufficienti Ovviamente interveremo con nostre proposte Qualora fosse necessario Però ecco è anche l'ammissione da parte dell'amministrazione Di praticamente un totale immobilismo Per quanto riguarda il fronte dell'inquinamento dell'aria E un provvedimento tampone è stato adottato dal comune di Fano Oggi pomeriggio il sindaco Massimo Seri ha firmato un'ordinanza Che prevede un blocco della traffico per due domeniche Nelle zone limitrofe del centro storico A mari estremi estremi rimedi E così sul fronte dell'inquinamento atmosferico L'amministrazione comunale fanese passa al contrattacco Circolazione vietata attorno al nucleo del centro storico Grosso modo il perimetro è quello dei divieti per il carnevale Con blocchi davanti alla stazione Al semaforo del Lido E su via Roma Con la circolazione del traffico In transito ad Anello Per due domeniche consecutive Quella del 26 gennaio e del 2 febbraio Dalle 9 alle 19 Fate salve le deroghe Per i permessi concessi alle persone con disabilità Ai mezzi di soccorso e di polizia Per chi invece deve recarsi al centro storico Escluso il parcheggio della caserma Che rientra nella zona rossa Si potrà lasciare l'auto al parcheggio del Van Vitelli A quello del foro Boario E al parcheggio del cimitero centrale Per il resto il centro rimane blindato alle auto Sia in entrata che in uscita Anche per i residenti Due domeniche ecologiche quindi Per fronteggiare un'emergenza In questi primi 15 giorni del 2020 La centralina di via Montegrappa Ha rilevato numerosi superamenti Della soglia massima di PM10 Nella nostra città E proprio il 15 di gennaio C'è stato un superamento particolarmente importante Di 93 mg per metro cubo E tenuto conto che il limite 50 E chiare le dimensioni anche dell'emergenza E aggiungo dell'urgenza Con la quale l'amministrazione comunale Vuole e deve intervenire L'area del centro storico È un'area comunque critica Perché ovviamente il traffico di attraversamento Della Adriatica e della Flaminia Converge proprio nel cuore della città E quindi intervenire in quest'area Ha un suo valore strategico Queste due domeniche Unite poi a quelle tre del carnevale In cui comunque la circolazione Sarebbe stata vietata Nelle orari delle manifestazioni Daranno modo all'amministrazione Di capire se questa contromisura Un po' draconiana E dai risultati soprattutto auspicati Con i dati a disposizione Della centralina di via Montegrappa Che a fine mese Potranno dare le giuste considerazioni Partendo dal presupposto Che la tutela e la salute dei cittadini Viene prima di ogni cosa Per non poi preoccuparci dopo Quando le cose si sono verificate Siamo consapevoli però Che non ci possiamo fermare qua Su questa riflessione Su questi interventi Che magari sono immediati E limitati nel tempo Dobbiamo ragionare anche in prospettiva Perché queste situazioni Si verificheranno periodicamente Anche in futuro Anche negli anni successivi Perché questi sono dei picchi Ma in realtà la situazione È costante ormai nel tempo Quindi dovremo ripensare Anche delle abitudini Dei metodi Per vivere la città Via Libero oggi Dal Consiglio dei Ministri A ulteriori 208 milioni di euro Per le 12 regioni colpite Dal maltempo Nello scorso mese di novembre I fondi saranno destinati A ripristino della funzionalità Dei servizi pubblici E delle infrastrutture Diretti strategiche All'attività di gestione Di rifiuti Delle macerie Del materiale vegetale O alluvionale Prodotti dagli eccezionali Eventi meteorologici Per le Marche È stato stanziato All'incirca 1 milione 470 mila euro Ed è stato presentato Ufficialmente Il nuovo ponte ciclo Pedonale sul fiume Cesano Si tratta di una infrastruttura Che andrà a collegare La pista ciclabile di Marotta Con quella in via di progettazione Nel comune di Senigallia Vediamo Unirà due province Quella di Pesaro Urbino Con quella di Ancona Oltre che due città Marotta e Senigallia Che da tempo hanno fatto Della mobilità dolce Uno dei propri cavalli di battaglia È stato presentato La stampa questa mattina In una conferenza stampa fiume Con tutti i protagonisti Di questo strategico progetto Il ponte ciclo pedonale Sullo fiume Cesano Che nel 2021 Dovrebbe vedere L'avvio del suo cantiere Lungo 196 metri A tre campate Di cui quella centrale Con un ampio arco Inclinato di 86 metri E due campate laterali Di 55 Interamente realizzato In acciaio Con una larghezza Di 5 metri Di cui tre A disposizione Delle due ruote Del costo Di 2 milioni di euro E progettato Interamente Dalla regione Marche E che farà parte Del progetto Di cui la regione Marche È capofila La ciclovia adriatica Che partirà da Trieste Ed arriverà Sino al Gargano Noi siamo Regione capofila Attraverserà tutte le marche 260 chilometri La metà peraltro Già realizzato Finanziati E dove si innestano Poi Altri percorsi Che vanno verso l'interno 13 ciclovie Che risalgono Tutti i fiumi Delle Marche Con 500 chilometri Di piste Anche questi Per la metà Realizzati Sono un grande progetto Di mobilità sostenibile Che guarda con grande attenzione Queste infrastrutture Per l'ambiente Per la qualità della vita Ma anche per il turismo Le Marche Con la sua rete A pettine Di ciclabili Che unirà la costa E l'entroterra Rappresenteranno Per il futuro Un'attrattiva Ancora maggiore Per turisti Da ogni parte del mondo Non è un caso Che l'Honely Planet Abbia riconosciuto Le Marche Come seconda Top destination Al mondo Questo significa Che dal punto di vista turistico E della qualità Abbiamo fatto grandi passi avanti Senigallia e Marotte Assieme a Fano Sono uno dei tasselli Di questo piano strategico Già finanziato Per 50 milioni di euro Con fondi europei e interni Che consentirà Nel 2025 Di vedere 166 chilometri Su 2,97 Di ciclovia Adriatica Realizzati Una volta Si chiamavano La viabilità alternativa La modalità alternativa Io invece sono convinto Che sia quella Dobbiamo pensare Principalmente Alla viabilità ciclabile E poi La risulta E' quello Che ci permette Di gestire La mobilità tradizionale Molti comuni Stanno facendo Queste scelte La regione Marche Ha avuto il grande coraggio Di diventare Capofila Nella ciclovia Adriatica I risultati Si stanno vedendo E' un'infrastruttura Che unisce Le persone E i territori L'abbiamo detto oggi In presentazione Unisce le persone Unisce i territori Gli operatori turistici Si intensificheranno Ancora di più I rapporti E le collaborazioni Tra amministrazioni comunali E tra operatori turistici Dei due comuni E delle altre realtà Numeri da record Per il Natale Più di Fano Che ha registrato Un aumento di affluenza Nelle varie attrazioni Ma anche nei cento eventi Organizzati Durante questo periodo natalizio Dati in crescita Anche per i settori Del turismo Oltre cento eventi Per un mese Hanno dato lustro Alla città Durante il periodo natalizio Iniziative che ogni anno Secondo un sondaggio Lanciato dall'assessorato Al turismo Ed eventi Del comune di Fano Interrogando esercenti Albergatori Risulta positivo Portando valore Al commercio E al turismo Il 92% di loro Sono molto contenti Di quello che sta realizzato Chiedono ovviamente Delle attività Sempre maggiormente Evidenziate In tutta la città Soprattutto in quelle zone Dove non ce ne sono C'è una gran spinta Di commercianti A motivarci Insomma A riempire anche quelle parti Molte sono le guide Che arrivano anche Da fuori della nostra città Quindi da Urbino Da gradare Tutte le altre città Che inseriscono Fano Nelle loro viste Quindi segno Che c'è Una propensione positiva A vedere Fano L'occasione dove si è registrato Un maggior profitto Riguarda l'evento Di inaugurazione Ritenuto positivo Per il 53% Delle attività Il Magic Sand Ha stimato 20.000 presenze La pista di pattinaggio Sul ghiaccio Ha registrato Un 20% in più Rispetto al 2018 Con un numero di ingressi Pare a 8.000 persone Incremento di interesse Per la città È stato confermato Anche dall'aumento Delle richieste Di visite guidate E dell'affluenza Registrata di pubblico Per i mini tour Organizzati con guida Ottimi risultati Anche per il Teatro della Fortuna Per il Museo della Flaminia Che dal 30 novembre Al 6 gennaio Ha colto 292 persone Record in termini di numeri Realizzati per l'edizione Del Natale conclusa Frutto del lavoro De diversi enti E proloco Con i suoi tanti volontari Noi ogni anno Abbiamo aggiunto qualcosa Se voi andate a vedere Da quando noi abbiamo Iniziato ad oggi Si vede dove c'è stata La crescita della proloco In questi anni E dell'amministrazione comunale In questo evento Noi già per il 2020 Abbiamo delle idee Che volevamo già realizzare In questo anno Ma abbiamo detto Meglio aspettare il prossimo anno E realizzarle In modo positivo Diciamo già che punteremo Un pochino su quello che è il Pincio Che è stato riqualificato Dall'amministrazione E quindi sarà quello Uno degli obiettivi In cui ci poniamo Per il prossimo anno E vi ricordo intanto L'appuntamento di lunedì prossimo Con Primo Cittadino Eccolo qua Ci sarà il sindaco Di Fossombrone Gabriele Bonci Potete intervenire in diretta Telefonando lo 0721 86 14 33 Oppure come sempre Potete inviarci dei messaggi Anche con Whatsapp Al 338 49 68 250 E anche a questo numero di cellulare Ci avete inviato Alcune segnalazioni Infatti misteriosi luci In fila indiana Sono state avvistate in cielo Ed è successo nel tardo pomeriggio di oggi Intorno agli ore 19 Ecco una delle fotografie Pubblicate sul nostro gruppo Facebook Reporter di strada Che sta suscitando tra l'altro Numerosi commenti Vi abbiamo indicato Ecco queste luci Tramite un cerchio in basso E delle frecce La provenienza e l'origine Al momento è sconosciuta C'è chi sostiene Che siano aerei militari americani Da trasporto materiale Oppure da trasporto truppe E chi invece dei satelliti Se li avete notati anche voi Potete insomma contattarci Anche al nostro numero di cellulare Io vi ringrazio per l'attenzione E buona serata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti